Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina si segnalano tre chilometri di coda in direzione Livorno e rallentamenti in direzione Firenze. Rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandici e Firenze-Scandici in direzione Firenze. Il traffico invece per il momento scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale Toscana. In A11 per lavori di pavimentazione, stanotte in orario 22.6 sarà chiuso lo svincolo di Prato Est in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!